Non chiamo domandarci se c'è consapevolezza di questo tipo. Ora di polemiche sull'ambiente, sulle iniziative che dobbiamo vendere, me lo diceva Anna Rita, se sbaglio la volta è sua. Mi diceva che in Europa... Capire, sapere se anche con poche parole la linea che abbiamo tracciato insieme, il lavoro che abbiamo fatto insieme è quello giusto e soprattutto provare... Signore Massimo, signore, guardi qua, d'arte, scusate, 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 scusate... No, no, no vince, fralince, però è discorso per esempio... Stare con questo problema ognuno faccia la sua parte e impegnare veramente anche le asle. Io sono... Oh, it's such a perfectly I'm glad I saw you